io questa mattina tranne chi dorme guidando va bene però traffico poco e vi auguriamo veramente buona giornata oggi come avete sentito per io le donne non le capisco un giorno molto particolare perché noi oggi 25 novembre la giornata contro la violenza sulle donne ma al di là di tutto io le donne non le capisco non poteva non non avrebbe mai potuto far finta di niente e non essere come dire protagonisti anche di una puntata dedicata a tutto quello che sta succedendo in questo in questo periodo a quello che è successo questa settimana e parlando con Loredana ci siamo detti ma quante donne sono morte e la cui notizia magari abbiamo ascoltato in televisione mentre stavamo magari apparecchiando la tavola piuttosto che cucinare piuttosto che lavorare così e diciamo hanno ucciso un'altra donna ma guarda tu incredibile punto mentre adesso doveva proprio morire questa giovane ragazza da questo viso così quasi familiare che poteva essere una di noi una sorella una figlia una cugina un'amica nostra e si è scossa la coscienza di tutti gli italiani maschi femmine bambini ragazzi nonni tutti di tutti noi se la morte di Giulia doveva servire a questo dobbiamo dire è stata una morte che magari può tracciare una strada può può essere da spartiacque tra quello che era prima e quello che dovrà essere da oggi in poi e quindi il tema di oggi ovviamente dedicato a questo mai se tu potessi decidere a fini pratici e data anche l'emergenza quali azioni faresti nell'immediato per cercare di auginare la violenza contro le donne è un qualcosa che fa capire che noi non vogliamo oggi parlare perché convegni ce ne sono tanti oggi ci sono assemblee oggi è proprio una giornata di cortei e tutto ma noi vogliamo cercare come nel nostro dna proprio di dare e di studiare insieme di capire insieme cosa possiamo fare perché questo coinvolge la comunità coinvolge ciascuno di noi ciascuno di noi perché è un problema che può capitare in qualunque famiglia abbiamo degli ospiti veramente di grande riguardo e io voglio veramente salutare e ringraziare la nostra veramente carissima perché poi una grande amica maria monteleone che è già procuratore della repubblica e capo del pool antiviolenza sulle donne o comunque di genere che è venuta qui personalmente davvero grazie e darà come sempre un grandissimo apporto perché lei è un magistrato illuminato davvero e abbiamo qui presente e vediamo non è la prima volta che vieni vero no allora maria cristina pisani presidente del consiglio nazionale dei giovani e praticamente è stata eletta ha avuto un premio da fobs come una delle 100 donne di successo in italia e ha solo 30 anni immaginiamo un po che cosa accadrà tra qualche altro anno ci sono tanti giovani veramente in gamba e lei ne è un esempio e a breve arriverà marina baldi criminalista genetista forense noi tutti la conosciamo siamo molti di noi sono proprio fan perché stanno in televisione quando lei va a chi l'ha visto o in altre trasmissioni è veramente un grande tecnico poi avremo Elisa Ercoli che è presidente di differenza donna e quindi presidente del pool che gestisce il 1522 che è questo numero di emergenza della presidenza del consiglio quindi è qualcosa di importante ci sarà anche Gianettore Cassani più tardi verso mezzogiorno che ci parlava un po' di queste ultime novità sul codice rosso eccetera ne abbiamo insomma di bendonde per parlare Loredana a te la parola oggi è una giornata particolare come dicevi tu una giornata che in questa trasmissione spero possa dare suggerimenti pratici a chi vive delle situazioni tra l'altro dopo la morte di Giulia i giornali dicono che le segnalazioni sono aumentate quindi giustamente Sonia come dicevi se la morte di Giulia è purtroppo servita a far acquisire una consapevolezza nuova e diversa e a far sì che le nostre coscienze possano poi riflettere perché molto spesso guarda anche nei fanciulli nei ragazzi giovani atteggiamenti di prevaricazione vengono a tutt'oggi letti come tiene a me invece la prevaricazione non va mai accettata mai esatto allora vorrei Maria Monteleone dunque tu per anni hai gestito proprio cioè ne avevi viste di cotte e di crude no? di questi casi di violenza sulle donne c'è qualcosa qualche caso che ti è rimasto proprio segnato nella mente per dire guarda fino a che punto si può arrivare? è molto difficile rispondere a questa domanda perché i casi sono tantissimi le situazioni le più varie e quello che mi sento di dire è che la vicenda di Giulia mi è parsa la ripetizione di quello che è accaduto a Sara perché Sara di Pietrantoni uccisa nel 2016 a Roma era una ragazza della stessa età di Giulia una studentessa universitaria uccisa dal fidanzato dall'ex che non accettava la separazione e purtroppo entrambe hanno sottovalutato drammaticamente i segnali gli indizi che avrebbero dovuto allertarle ecco e quindi non è un caso che Sara sia stata uccisa poche ore dopo essere stata a casa sua insieme a sua madre e con lui presente e la povera Giulia abbiamo appreso era addirittura uscita con lui aveva accettato di uscire con lui e praticamente nell'occasione dell'ultimo incontro l'ha uccisa tanto per cambiare scusami perché l'abbiamo sempre detto ogni volta che si è parlato di questo l'ultimo incontro quando si dice ti prego incontriamoci per l'ultima volta nella maggior parte dei casi è l'incontro fatale purtroppo sì l'ultimo incontro spesso è fatale e come lo è l'incontro che viene chiesto magari per chiarirsi per solo per parlare ecco quando una ragazza una donna ha qualche segnale di criticità di segnale di preoccupazione non solo non deve deve essere molto attenta ad incontrare la persona della quale sente di doversi in qualche maniera proteggere ma soprattutto la cosa più importante è che deve condividere immediatamente con chi sta a lei vicino queste sue pensieri queste sue preoccupazioni anche le più personali il problema è che tante volte anche le amiche dice allora perché se anche dopo voglio vedere di farle ascoltare che è molto toccante l'audio di Giulia l'audio che ha inviato alle amiche è molto toccante però quello che voglio dire è tante volte se ne parla con le amiche la prima cosa magari non lo dice ai genitori per non preoccuparli ne parli con le amiche però pure le amiche devono essere molto attenti perché appunto insistiamo ragazzi insistiamo l'ultimo incontro non va non ti devo incontrare oppure vai con qualcuno accompagnato da tuo fratello da qualcuno ma è e quello può essere l'inizio della fine un'altra cosa importante che notavo sempre in questo caso e magari non è l'unico questa idea di la preoccupazione di Giulia era quella che lui si volesse suicidare perché lui diceva io non mangio più io guardo il soffitto sto buttato sul divano cioè le ha creato una serie di problemi psicologici proprio per perché la sua preoccupazione esco con lui perché altrimenti chissà che cosa fa mentre lui invece nella sua testa bacata no? ma è proprio questo è il problema perché le ragazze e le donne che subiscono violenza sentono irragionevolmente ovviamente dei sensi di colpa sensi di colpa che non hanno ragione in motivo di essere e questo condiziona la loro capacità di consapevolezza dei rischi e dei pericoli che corrono non è un caso che anche per Sara e come sta avvenendo adesso per Giulia abbiamo ricostruito dopo che era morta i contatti i whatsapp che aveva avuto con le amiche con facebook abbiamo potuto ricostruire e sulla base dei dati che ci ha fornito facebook dimostrare la premeditazione che poi ha portato la condanna all'ergastolo del suo assassino e cioè abbiamo purtroppo a posteriori ricostruito tutti i messaggi vocali ma anche messaggi whatsapp che hanno dimostrato come lei in realtà avesse già da qualche tempo timore di questa persona e si fosse confidata con le amiche ecco ma tutto questo non era emerso e tutto questo la mamma non lo sapeva ecco allora presidente del consiglio nazionale giovani ma com'è cioè perché la cosa incredibile no che ha ha scioccato tutti noi che una cosa come questa si parla sempre di violenza sulle donne uomini violente donne violente è un qualcosa che quasi non ci è non ci è vicino no ma quello che ha creato questo caso perché fa pensare che Giulia poteva essere nostra figlia nostra sorella ma anche lui perché io tutti parlano del padre di Giulia ma io vorrei parlare pure di questo padre di questo Filippo è un lutto incredibile è un lutto ma non è un lutto da mancanza come si può dire è un lutto è uno strappo per dire ma io che ho cresciuto perché uno che sembrava un ragazzo bravo tranquillo allora volevo chiedere un attimo alla nostra presidente dei giovani avete fatto voi dei sondaggi cioè come come è la situazione di cioè i giovani di oggi come li vedi nel senso così in generale perché hanno problemi non si sentono capiti sono anche figli del lockdown anche ora però poi parliamo di casi anche precedenti parlava la dottoressa al 2016 eccetera ma che cosa sta succedendo che c'è anche tanto bullismo c'è di tutto allora la situazione è molto complessa nel senso che noi abbiamo fatto diverse analisi tra cui appunto una delle ultime rilevazioni fatte anche all'istituto Piepoli per capire quanto in questi giorni se ne è parlato tantissimo Sonia il patriarcato il maschilismo sia presente tra i giovani che consapevolezza abbiano rispetto a questi fenomeni il dato positivo è che devo dirti i giovani sono più consapevoli rispetto alle altre fasce d'età di vivere in un paese sessista quindi in un paese che ha e crea disparità tra donne e uomini con una tendenza però anche qui di genere cioè solo 4 uomini su 10 negano il maschilismo e il patriarcato quindi c'è anche qui una differenza di genere generazionale ma forse i dati più interessanti che sono anche forse più allarmanti riguardano le relazioni di coppia cioè 4 un ragazzo su 4 sostiene ancora che stiamo parlando di dati fatti su una fascia di popolazione scolastica quindi stiamo parlando addirittura di adolescenze in fase di formazione che addirittura sia ancora l'uomo a dover comandare in famiglia o 1 su 5 che il tradimento della propria ragazza sia più grave di un proprio eventuale tradimento quindi è vero che a livello di consapevolezza i giovani hanno probabilmente una maggiore cognizione di vivere in un paese di disparità ma soprattutto le donne le giovani donne ma è altrettanto vero che nel privato poi attuano e mettono in campo ancora comportamenti di discriminazione e anche di violenza verso le loro ragazze verso le loro compagne anche perché se mi permetti Maria Cristina viene meno un'idea fondamentale che non riesco a capire come mai non venga travasata che l'amore è libertà non è possesso si posseggono gli oggetti non le persone e credo che questo sia un elemento fondamentale perché alla base di tutti i femminicidi c'è l'idea del possesso dell'altro l'altro è mio nel momento in cui non posso più controllare quindi la dimensione di controllo e potere ovviamente l'unica cosa è la uccido e a volte la uccido e mi uccido perché ci sono anche diversi casi ma questo com'è che non ha avuto il coraggio di uccidersi perché il padre è stato molto chiaro e quando ha saputo della morte di Giulia ha detto mi dispiace sapere che mio figlio è vivo perché mi sarebbe avrei gradito fosse un'altra situazione pensa pensa a che punto è arrivato è una dichiarazione ufficiale del padre psicologicamente perché secondo voi non ha avuto il coraggio di uccidersi lui io credo sai che a livello proprio di fantasia poi ognuno noi lo vediamo quando ci sono dei reati violenti solitamente le persone utilizzano delle distorsioni cognitive cioè nel senso che rappresentano e si rappresentano in maniera completamente differente quello che è accaduto quindi probabilmente anche una dimensione di autogiustificazione del proprio comportamento sciagurato perché io non riesco a utilizzare un altro termine quindi probabilmente come si suol dire in maniera molto semplicistica se l'è raccontata in maniera completamente differente e quindi ovviamente si è tra virgolette autogiustificato perché credo che questo sia un elemento che poi appaia molto spesso cioè quella della distorsione cognitiva racconta una storia completamente diversa da quella che è realmente accaduta 3-7-7-5-104-500 se cosa fareste voi nell'immediato cioè delle proposte per capire come fare come intervenire ma al di là di questo c'è qualcuno di voi di noi pensieroso perché dice ma chissà se quella mia amica sarà un problema io poi dico che non è soltanto un discorso femminile ma un discorso anche forse soprattutto maschile perché anche negli uffici il collega che dice ah ma io a mia compagna ha tratto così fai come me no quest'aria un po' da gradasso eccetera cioè intorno a voi che cosa c'è cioè vi è capitato avete qualcosa da raccontare vi è capitato qualche caso particolare e non sapete come comportarvi ve lo chiedo per il semplice fatto che il 1522 che è il numero praticamente antiviolenza della presidenza del consiglio dei ministri sta ricevendo centinaia e centinaia di telefonate e messaggi al giorno proprio da quando è successo questo caso quindi vuol dire che ci sono tante che chiedono suggerimenti per le figlie per le cose io devo dire parlavo l'altro giorno con una ragazza che mi ha detto io ho avuto due ragazzi importanti due storie importanti nella mia vita dice e quando li ho lasciati tutti e due ho avuto due casi simili cioè io mi uccido io senza di te non posso vivere anche se non mi vuoi più bene non fa niente stiamo lo stesso insieme si facevano trovare sotto casa dormivano in macchina dice oggi mi metterei paura guarda Sonia io ieri ne ho scritto ho scritto un editoriale sul Corriere della Sera anche per raccontare alle ragazze che la violenza di genere è un problema degli uomini non è un loro problema e lo dico spesso perché questo è importante per poter anche aiutarle a capire che non devono vergognarsi di quello che accade che devono denunciare non è una loro responsabilità in questo articolo io ho un po' ripercorso anche forse anacronisticamente quello che è stato anche l'importanza del femminismo anche oggi raccontarlo alle ragazze perché ne parlavo ieri appunto sul Corriere della Sera molto spesso le femministe le ragazze che rivendicano i propri diritti e che poi ricordiamoci che questa emancipazione un po' fa vacillare la sicurezza dell'uomo che la dottoressa la saprà meglio di me anche nel sistema nel nostro sistema giuridico ha sempre avuto un forte potere ricordiamoci che c'era il delitto d'onore veniva giustificata l'uccisione nel nostro stiamo parlando di 60 anni fa tra l'altro la dottoressa mi come dire anche dirà che più di 60 anni fa addirittura si discuteva se le donne potessero fare i magistrati perché si sosteneva Sonia che il ciclo mestruale potesse influenzare sulle loro capacità quindi dobbiamo raccontarle è assurdo sembra ridicolo ma è esistito 60 anni fa non sono 2000 anni fa è davvero ieri e noi dobbiamo raccontarlo alle ragazze dobbiamo raccontare invece che devono essere orgogliose insieme devono rivendicare diritti che ancora oggi purtroppo non hanno io ti ho parlato di questo sondaggio anche sul patriarcato si è dibattuto non siamo una società patriarcale perché si pensa che la società patriarcale non appartengono a sistemi democratici eccolo legge un po' queste assolutamente sì l'atteggiamento patriarcale in Italia è importante questo dato perché questo ci dà in realtà fiducia ci dà fiducia e speranza perché lo riconoscono soprattutto i ragazzi ne hanno consapevolezza ovviamente c'è una maggiore consapevolezza questo è il dato in realtà più preoccupante delle donne perché ovviamente ne subiscono gli effetti di questa società meno gli uomini ed è lì che bisogna lavorare è lì che bisogna incidere io per questo ieri raccontavo in questo titolo che è un problema degli uomini cioè dobbiamo soprattutto lavorare sugli uomini questo può aiutare anche le donne appunto come ti dicevo a capire che non devono vergognarsi che non è un loro problema che non devono loro aiutare anche casi di diciamo di uomini che invece devono essere aiutati anche da un supporto psicologico di assistenza completamente diverso c'è un problema culturale enorme per questo bisogna fare chiarezza perché poi Sonia quello che è successo in queste ore è stata anche una grande confusione si è parlato di responsabilità attribuzioni di colpe senza poi magari scendere nel dettaglio di casi che in realtà tengono ad un sistema anche culturale oltre che anche come dire ad un processo anche di di consapevolezza delle singole coscienze sulle quali invece bisogna aprire una grande riflessione del nostro paese a partire dai ragazzi io Maria Cristina sono d'accordo fino a un certo punto che bisogna formare gli uomini fornire bisogna formare anche le donne perché le donne sono madri degli uomini quindi voglio dire però non sono anche i padri ci sono anche i padri nelle famiglie che devono formare i figli certo però dato che la madre ha un ruolo fondamentale se una madre subisce offre un modello sicuramente disfunzionale al figlio dato che noi sappiamo in questo la psicologia su altre cose non metto bocca però Bandura ci ha insegnato che veder fare significa saper fare cioè se mio padre mette in atto un comportamento violento mia madre è in una situazione di sudditanza allora la coscienza deve essere femminile perché la madre deve sapere che ha una grossa responsabilità nell'interrompere questo circuito di violenza cioè a lei spetta un ruolo significativo è ovvio che poi la sensibilità cioè la formazione come giustamente dicevi è possibile vedere delle trasformazioni nei ragazzi di oggi anche se i ragazzi di oggi sono penalizzati per me da una grossa situazione oggi loro vivono in una società liquida in una società senza confini in una società dove non c'è più per esempio la coalizione degli adulti si parla della responsabilità di quello che si potrebbe fare nelle scuole ma se l'adulto a scuola non viene riconosciuto in primis dal genitore cioè i ragazzi si trovano veramente ad affrontare tutta una serie di situazioni dove è difficile trovare anche dei salvaggenti quindi voglio dire io spero che tutto questo che arrivi anche fluidamente possa rappresentare dei link per delle riflessioni proprio personali io ti direi una cosa bisogna intervenire sui maschi e come giustamente dicevi tu è importante anche quello che dice lei perché se la donna è sottomessa a un padre padrone in casa il figlio ovviamente vede l'esempio paterno e diventa violento quindi la donna deve capire purtroppo noi veniamo da generazioni dove la cultura familiare era sei donna il tuo marito lavora cioè il nonno lavora la nonna non lavora sta a casa e soccombe no? purtroppo però Sonia lo sai qual è il problema anche qui questo atteggiamento di sottomissione perché anche qui il focus è su una donna che deve ribellarsi per carità e non è invece sull'uomo che attua questi comportamenti cioè se non ci fossero gli uomini a mettere in campo questi comportamenti in realtà il problema non esisterebbe il problema è lo scontro per questo dico io invece sono convinta che bisogna lavorare maggiormente sugli uomini perché le donne si trovano in situazioni di difficoltà non è facile dire io l'ho visto sulla mia esperienza anche storie di ragazze che ho conosciuto non è così le ragazze hanno consapevolezza ma non è facile prenderne consapevolezza pubblicamente denunciare sono percorsi lunghi in una società in cui comunque il loro ruolo è inferioritario rispetto agli uomini per questo sì e no nel senso che comunque io continuo a sostenere che anche rispetto ai figli la maggiore responsabilità ce l'ha l'uomo perché è l'uomo che mostra un figlio che si può picchiare una donna il fatto che la donna diciamo debba ovviamente non accettare alcuni comportamenti è qualcosa di scontato ma io lavorerei su quello sul fatto che in una famiglia gli uomini non devono mostrare non devono picchiare le proprie compagne e quello l'elemento è la violenza l'elemento di per sé più che il senso di accettazione che non è accettazione però posso farti fare una riflessione dall'immagine che noi abbiamo visto dai dati tu eri preoccupata per il femminile quindi vuol dire che le donne interiorizzano una sottomissione quindi voglio dire si deve lavorare da ambo le parti perché se no non ne usciamo cioè non può essere una visione anche perché ricorda non ci può mai essere una logica lineare la logica sempre circolare gli elementi che intervengono sono più di uno sì io posso vi faccio un esempio personalissimo io sono madre di tre maschi mio figlio un giorno ebbe un momento di ira era con la ragazza lanciò un portafotografie e mi disse mamma io mi vergogno di quello che ho fatto e mi ha detto io ho bisogno di fare terapia ho detto benissimo cosa vuoi mi scegli un terapeuta ho detto cosa vuoi un uomo o una donna dice preferisco un uomo ha fatto una serie di nominativi di colleghi di cui mi fido lui ha iniziato una terapia perché non è riuscito a gestire gli impulsi perché ha detto oggi lancio il portafotografia fortunatamente senza colpire nessuno e senza danni ma se io non intervengo perché è stata la mia rabbia una allora voglio dire probabilmente io mi reputo una madre soddisfatta perché qualcosa come madre gliel'ho passata come modello che ho offerto gliel'ho passato quindi io credo che veramente noi abbiamo una grossa responsabilità volevo chiedere alla alla dottoressa qui presente la dottoressa Monteleone ma siamo pieni di senno di poi cioè col senno di poi quante morte abbiamo avuto noi e poi dopo dire però fosse avremmo potuto quello avrebbe fatto ci troviamo anche in questa situazione questo ragazzo che ha visto ha sentito queste urla per strada ha chiamato il 112 e il 112 c'è un operatore che poi non è che per un operatore che in quel momento c'è la testa da un'altra parte poi bisogna infangare tutta la come dire sia operatori dei carabinieri che della polizia che fanno un lavoro egregio però ti capita sempre il soggetto sbagliato in quel momento che risponde al telefono infatti so che adesso ci sono una serie di riunioni e lavoreranno molto di più sulla formazione di questi però se ti capita pure di pensare ma se fosse arrivata subito la squadra dei carabinieri forse si sarebbe potuto a maggior ragione visto che poi questo sarebbe caricato in macchina e sarebbe portata via non è andato via cioè allora forse si sarebbe salvata forse se le amiche avessero se questi fosse questo quanti casi abbiamo dottoressa di morti così che ti lasciano un amaro ancora maggiore tutte le morti lasciano non solo la preoccupazione il pensiero di non aver fatto tutto per impedirlo almeno alle persone quando era possibile a tutte le persone che erano intorno alla vittima sicuramente il senno di poi è utile perché ci deve essere da monito ci deve insegnare a conoscere più nel dettaglio il fenomeno per poter mettere in atto delle azioni preventive quindi questo è sicuramente importante ma sicuramente la prevenzione è ancora più importante io voglio dire questo è importante oggi io sento che la morte di Giulia forse non è stata come purtroppo è stata in gran parte quella di Sara e condivido mi sento veramente di condividere di fare mio il pensiero del presidente Mattarella che ha detto che non possiamo indignarci ad intermittenza e allora bella questa frase sì è molto molto bella e ci deve fare riflettere tutti il senno di poi può servire però dobbiamo anche dirci che sono tante 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 le donne che sono ogni giorno salvate dalle forze dell'ordine dai magistrati dai centri antiviolenza da tutte le persone che segnalano denunciano accadimenti e fatte gravi e poi voglio dire due cose io mi sento molto condivido molto le considerazioni della giovane dottoressa Pisani non mi ricordo se Maria Cristina bene di Maria Cristina le condivido molto perché penso dobbiamo agire e intervenire e programmare interventi sia prima sull'uomo che l'autore della violenza ma anche sulla donna per comprendere aiutarci a comprendere come intervenire faccio una considerazione vi pongo una domanda che mi sono posta capita tutti i giorni che un ragazzo sia lasciato dalla propria ragazza e che una ragazza sia lasciata dal proprio ragazzo allora domandiamoci per quali ragioni noi oggi qui stiamo a parlare di 106 donne uccise nel 2023 e per fortuna non parliamo di numeri di uomini uccise da ragazze donne lasciate abbandonate allora perché la reazione di fronte allo stesso fatto è diversa perché l'uomo regisce in un modo e la donna regisce in un altro questo è molto secondo me indicativo di quanto sia anche un problema culturale e un problema di patriarcato e chiudo dobbiamo agire sulle donne certo subito dopo o comunque anche sulle ragazze oggi sono più sensibili più attenti più consapevoli dei rischi però ho sentito dire la psicologa parlare di diciamo di consapevolezza delle ragazze della diciamo di quanto sia importante esigere il rispetto da parte di tutti io voglio ricordare in un convegno dedicato appunto alla violenza delle donne una grande scrittrice Alessandra Bocchetti ha detto una cosa bellissima che io voglio ricordare ha detto non è vero che un uomo libero è uguale a una donna libera è vero che gli uomini e le donne sono uguali in una cosa nella dignità che non è un diritto da conquistare ma è un diritto che si ha per il solo fatto di esistere perché persone allora riflettiamo su questo dato io non mi sento uguale a un uomo quindi non è vero che siamo uguali ma siamo uguali in qualcosa di fondamentale dobbiamo andare in pubblicità stanno arrivando diversi messaggi e questo poi dopo andiamo in pubblicità sicuramente non siamo tutelate dalla legge Anna dopo eccola l'ha già fatto no allora tra poco io le donne non le capisco